Buongiorno, allora iniziamo oggi un nuovo argomento, iniziamo come abbiamo accennato a parlare di database ossia di permettere ai nostri programmi che realizzeremo essenzialmente di poter memorizzare i dati all'interno di una base dati e poter accedere anche qui a dataset più ampi che siano appunto memorizzati in una base dati di tipo relazionale e per far questo vedremo tre gradini diversi di complessità, oggi inizieremo col primo gradino che è quello proprio di come si faccia tra un database la lezione successiva invece vedremo come strutturare a livello di classi, di pattern di programmazione il database all'interno di un programma più complesso che abbia l'interfaccia dovefx e poi infine più avanti tra un paio di settimane vedremo invece anche come gestire problemi poi di prestazione, di velocità grazie all'uso di librerie aggiuntive come connection pooling e così via. Ma iniziamo come si suol dire dall'inizio, quindi il percorso che faremo oggi sarà quello dei primi tre punti di questa le scuole di primi tre punti di questa outline dove appunto vedremo la parte introduttiva quindi il nostro problema sarà quello di iniziare a conoscere qual è la libreria Java che ci permette di accedere a un database qui stiamo dando ovviamente per scontato che noi sappiamo già tutti che cos'è una base dati, cos'è una base dati relazionale in particolare nel caso di MySQL o MariaDB, diciamo così un pochino anche di manualità nel loro utilizzo. JDBC è una sigla strana che permette, è una libreria, il nome di una libreria Java, di una parte della specifica Java che permette proprio a un programma Java di poter accedere a una base dati relazionale a una base dati qualunque memorizzata all'interno di un DBMS di tipo relazionale e accedere a un database significa alla fine poter interrogare, poter modificare i dati, poter inserire dati nuovi e così via. Questi dati ovviamente li useranno gli algoritmi, li potrà anche usare l'utente perché l'utente potrà vedere risultati o inserire nuovi dati e così via. Quindi dobbiamo di fatto creare un livello di accesso ai dati che potrà essere usato nelle nostre applicazioni. In particolare nei nostri programmi tipo JavaFX vogliamo far sì che il programma possa memorizzare i dati sul database e anche leggerli soprattutto per poter, come dicevamo, anche esercitarci su esercizi, su problemini che abbiano una quantità di dati anche un pochino maggiore. E ovviamente tutte le volte che l'utente compie un'azione probabilmente, quindi clicca su un bottone, inserisce un dato, fa una ricerca probabilmente il programma dovrà accedere al database per andare a interrogare le parti che gli interessa. Dicevamo che la libreria usata per fare queste cose nell'ecosistema di Java è una libreria che si chiama JDBC. JDBC è una sigla che tempo fa, tempo dietro, si chiamava, si riferiva all'acronimo per Java Database Connectivity. Poi adesso in realtà, diciamo, i documenti ufficiali dicono che JDBC è semplicemente un nome, non è una sigla di nulla ma questo non ci fa molta differenza. È una libreria neutrale, nel senso che permette di accedere a quasi tutti i database diversi. Quindi vedremo che ha un minimo di complessità iniziale perché questa libreria, quando è stata pensata, dei progettisti del linguaggio Java, ha dovuto risolvere il problema che di database in giro ce ne sono molti. Quindi c'è MySQL, ma c'è anche quello di Oracle, ma c'è anche quello di IBM, ma c'è Postgres, eccetera, eccetera. Quindi ci sono vari software di BMS diversi che gestiscono tutti i database relazionali. Ma tutti questi software sono lievemente incompatibili tra di loro, cioè potermi agganciare da un programma diverso richiede delle chiamate diverse, delle connessioni diverse e così via. E allora, chi ha progettato JDBC si è posto proprio questo problema. Come facciamo a far sì che il programmatore Java possa scrivere il proprio programma, le proprie interrogazioni, il database, le proprie query senza preoccuparsi troppo di qual è il database a cui dovrà essere collegato e magari possa permettere in un secondo momento di poter migrare da un database a un altro. Quindi poter usare, sviluppare un programma magari con una versione di un database gratuito e poi in produzione dovrà quel database migrare, sicurato, quel programma migrare su un database molto più potente e quindi magari di tipo commerciale. Questo ha influito pesantemente sulla struttura di JDBC che andremo a vedere. Io qui ho riportato solamente i link principali alla documentazione, quando ci sarà poi necessario, soprattutto la parte di documentazione ufficiale di Oracle. E vi accendo al fatto che tutte le classiche e le interfacce soprattutto che ci servono, sono all'interno di questi due package, java.sql e java.x.sql, quelle, diciamo, alcune classiche sono state definite in versioni Java successive. Quindi questa libreria è in grado di standardizzare il meccanismo per connettersi a vari DBMS e standardizzare un pochino anche il modo in cui costruire le interrogazioni. e quindi e soprattutto standardizza il modo in cui il risultato dell'interrogazione viene restituito al programma. Quindi questo è l'obiettivo principale, da avere un layer, un livello uniforme che permette al programma Java di interrogare qualunque database, sottostante, con una certa uniformità. Attenzione che JDBC non può far nulla contro le incompatibilità a livello di linguaggi SQL. Quindi vari database implementano varianti diverse di SQL. Se vogliamo avere un assaggio di ciò che succede c'è questo sito di questo signore che con tanta pazienza si è messo a evidenziare quelle che sono le caratteristiche particolari dell'SQL così come definito nello standard rispetto alle implementazioni di SQL da parte di vari tipi di database server e come si vede dalle tabelle che fornisce ad esempio per alcune caratteristiche anche solo nella select che tutto sommato è una cosa, è l'istituzione più semplice è anche quella più utilizzata della SQL si vede che i vari database funzionano in modo leggermente diverso. Non parliamo poi di quando si parla di esempio date, date e ora dove i vari database differiscono moltissimo ma di questo avremo modo di parlare come quando faremo quella lezione di cui vi avevo già anticipato appunto sulla gestione di data e ora, di valori temporali. Quindi queste varianti rimangono per cui se voi scrivete una query che va al di fuori delle SQL standard e adatta a un'estensione delle SQL che è definita da MySQL non ci aspettiamo poi che quella query possa girare correttamente senza essere modificata corretta su Oracle ad esempio come database. E come si ottiene quindi l'indipendenza del database? Allora questa figura cerca di suggerircelo ci dice guarda che tu hai varie basi dati supponi di avere un database Oracle, supponi di avere un database Microsoft SQL Server oppure un'altra fonte dati da qualche altra parte su qualche altro database, MySQL eccetera e qui abbiamo sopra il nostro programma quindi qua sotto abbiamo il nostro database e qua sopra abbiamo il nostro programma ci sono vari livelli il primo livello è che l'unico che il nostro programma vede è questa cosiddetta JDBC API cioè un'interfaccia, API sta per Application Programmer Interface quindi interfaccia che vede il programmatore che è l'unica cosa che la nostra applicazione vede quindi quando noi sviluppiamo qualcosa lo sviluppiamo rispetto alle interfacce che sono definite in questa API sono interfacce quindi non sappiamo come verranno implementate i metodi che usiamo qua però saranno implementati da una classe di basso livello che si chiama Driver JDBC il Driver JDBC tipicamente è fornito da chi mi fornisce il database quindi la Oracle che mi vende il database mi dà anche una classe Java che implementa il cosiddetto JDBC Driver per accedere a questo database se io uso MariaDB o MySQL allora anche sul sito di MariaDB mentre scarico il database scaricherò anche una classe che implementa il JDBC Driver per quel tipo di database e così via quindi in pratica noi scriviamo un programma che chiama dei metodi che sono definiti in un'interfaccia, in un insieme di interfacce le classi che implementano queste interfacce sono invece presenti in un pacchetto scaricato dal fornitore del database e quindi sa esattamente come parlare col database specifico il mio programma il più possibile non sa o non vuole sapere con quale driver sta parlando e con quale marca o versione di database che sta parlando e quindi in mezzo c'è questa classe che si chiama driver manager che fa sì che l'applicazione Java carichi il driver 1, il 2, il 3 quello più adatto rispetto al database che deve interrogare quindi attraverso il driver manager noi creiamo un'istanza di una classe JDBC Driver che però non vediamo mai direttamente perché tutte le operazioni le faremo sempre attraverso le interfacce definite nell'API standard, nella libreria standard quindi questo è il modo di pensare noi pensiamo qui e l'implementazione però che girerà sarà questa ci sarà appunto per gestire questa molteplicità di driver ovviamente ci sarà un pochino di complessità che viene gestita dal JDBC Driver questa di fatto è un'implementazione di una facciata praticamente il pattern di programmazione in questo caso si chiama facade cioè nel senso definisce un insieme di chiamate che poi vengono rimappate sulle chiamate effettive di basso livello in pratica in pratica tutte le volte che dobbiamo accedere a un database per farlo a qualunque interrogazione dobbiamo eseguire questi sei passaggi quindi questi sei passaggi sono un pochino lo schema di lavoro che seguiremo sempre ogni qualvolta dobbiamo accedere a un dato in un database oppure dobbiamo inserire un dato in un database o cose di questo genere allora andiamo per ordine e cerchiamo di capire che cosa succede in ciascun passaggio e poi in parallelo cerchiamo anche di implementarlo praticamente in un esempio su Eclipse direttamente in Java allora il primo passo definire l'indirizzo di connessione noi dicevamo che il driver JDBC sono le classi che servono per poter accedere al database e quindi prima di tutto ho bisogno di due elementi il primo elemento è avere questa classe installata da qualche parte e secondo fare in modo che il driver manager capisca quale classe io voglio usare installare la classe significa semplicemente andarsi a scaricare questa classe, questo pacchetto e salvarlo in un punto in cui Java lo possa vedere in cui il processo di compilazione di Java riesca a trovarlo e quindi o lo copiamo all'interno del progetto oppure lo mettiamo da qualche parte all'interno del percorso di ricerca delle classi di Java la cosa importante è che noi installiamo una classe nel nostro progetto la aggiungiamo ma non la richiameremo mai direttamente nel nostro codice non parleremo mai direttamente col driver JDBC di MariaDB, di MySQL, di Oracle, di IBM parliamo sempre solo attraverso delle interfacce intermedie non facciamo questo errore perché altrimenti il nostro programma non sarà così conforme al JDBC e non è detto che funzioni correttamente e quindi questa classe verrà poi scoperta una volta che il programma è partito grazie appunto al nostro amico driver manager qui vi ho dato qualche indicazione su dove scaricare la classe JDBC driver nel caso in cui utilizzate come database MySQL oppure ci sono altre indicazioni per quanto riguarda lo scaricamento del driver JDBC di MariaDB che come sapete è un'evoluzione open source indipendente rispetto a quella di MySQL ma è decisamente compatibile con esso e infatti risponde in molti casi se voi chiamate MySQL cercate di collegare poi tra un attimo vedremo il significato di questo se cercate di collegarvi a un database chiedendo un driver di MySQL e avete installato quello di MariaDB esso risponde al suo posto e quindi è in grado di impersonarlo non dico molte parole a proposito di queste due pagine al di là di lasciarvi il link nelle slide perché nei progetti che usiamo quest'anno grazie all'archetipo Maven che è stato creato se andate a vedere le dipendenze che sono state scaricate ovviamente molte sono relative a JavaFX che abbiamo cominciato a conoscere ma c'è anche una dipendenza relativa al MariaDB Java Client e quindi contiene già il driver JDBC per potersi collegare a MariaDB che è il database che useremo in questo corso se voi avete installato per caso MySQL anziché MariaDB non vi dovete preoccupare perché sono pienamente compatibili quindi da questo punto di vista non abbiamo nulla da fare questa classe è già presente all'interno del progetto e quindi lo possiamo utilizzare allora il passo 1 di quei 6 passi di cui vi dicevo prima è appunto definire un urlo di connessione quindi un percorso, un indirizzo di connessione in modo che la classe driver manager possa inizializzare correttamente la connessione del database questa classe driver manager deve capire quale driver JDBC caricare quindi quello di MariaDB, quello di Oracle, altri ancora dove si trova il database remoto da intercettare ricordiamoci questa figura qui siamo in questa classe JDBC driver manager che deve gestire la connessione e questa deve chiedere ho bisogno di questo driver e questo driver deve collegarsi a questo database queste sono le informazioni che dobbiamo fornire al driver manager affinché possa fare il suo lavoro e queste informazioni sono codificate all'interno di un'unica stringa che si chiama appunto url, indirizzo di connessione l'indirizzo di connessione nel caso di MySQL o di MariaDB ha questo formato JDBC, quindi inizia sempre con JDBC due punti una stringa che identifica il database può essere MySQL, può essere MariaDB nel nostro caso due punti, barra barra poi opzionale ma obbligatorio l'host, cioè su quale server sta girando la macchina il nome del database a cui vogliamo collegarci e poi eventualmente una serie di uno o più proprietà proprietà uguale nome uguale valore nome uguale valore così via che sono degli attributi in più della connessione nella pratica come componiamo questo indirizzo? lo componiamo mettendo insieme questo iniziale prefisso che è sempre uguale JDBC MySQL il server su cui sta girando il database normalmente il database sta girando sulla stesso computer su cui siamo noi e quindi la parte host sarà la local host eventualmente dobbiamo anche specificare la porta su cui sta girando su cui è in ascolto il database se non abbiamo modificato la configurazione la porta dovrebbe essere 3306 e nel caso in cui sia questa porta di default non deve essere specificata non è necessario specificarla se invece il nostro database sta girando su una porta diversa e questo succede spesso ad esempio ho ricordo dei Mac in cui c'è già installato un MySQL di sistema voi ne installate un altro e questi ovviamente gireranno su porte diverse e allora in questo caso bisogna specificarlo anche nell'indirizzo di connessione poi abbiamo uno slash e il nome del database e poi le informazioni di autenticazione username e password username è punto interrogativo user uguale e il nome utente and, secondo parametro, password uguale la password segreta per potersi collegare con quell'utente nel caso in cui stiate usando come database server XAMPP non dovete indicare la password perché XAMPP sta diciamo così vi installa un database in cui l'utente root non ha nessuna password allora fate attenzione non mettere la password è diverso rispetto a mettere la password vuota quindi non scrivete password uguale niente ma proprio non scrivete la parte password questa è l'unica differenza tra XAMPP ed altre installazioni di MariaDB in cui è buona norma metterla password anche semplice ma è buona norma metterla poi ovviamente questo connector ha molti altri parametri che se volete sono indicati a questa URL ma diciamo così quelli importanti che ci serviranno sono questi allora proviamo dicevo passo passo a fare lo stesso lavoro quindi proviamo a crearci un piccolo programmino io dovrei avere Eclipse aperto ho creato un progetto che si chiama esempio SQL esempio SQL e all'interno ho creato un package model perché ho creato un package model? ma perché concettualmente l'accesso ai dati fa parte dell'operazione del modello oppure potremmo più avanti creare diversificare il package model rispetto al database però per ora siamo così lavoriamo lì siamo nel livello di accesso ai dati sicuramente non nel controllo e sicuramente non nell'interfaccia utente e quindi proviamo a creare una prima classe di esempio con la quale faremo una piccola interrogazione l'interrogazione a che cosa? beh dobbiamo avere un database da qualche parte allora io come primo esempio ho scelto un database che vi propongo che è disponibile su GitHub a questo indirizzo che vi linko poi sul sito nel corso all'interno di un'organizzazione che si chiama GitHub TDP Datasets che nella quale cerco di raccogliere un pochino i dataset i database su cui lavoriamo nel corso c'è uno c'è un progetto che si chiama un repository che si chiama Babs Babs raccoglie dei dati relativi al buy sharing nella Bay Area quindi Bay Area è l'area intorno a San Francisco in California e loro hanno raccolto dei dati relativi al servizio di buy sharing all'interno di quell'area e quei dati li hanno usato per fare una challenge per chi riusciva a trovare gli algoritmi o le applicazioni più utili che sfruttassero quei dati a noi interessa poco in realtà io ho scaricato questi dati li ho convertiti in formato SQL e questa è la struttura di questi dati in cui abbiamo una tabella station che definisce quali sono le stazioni in cui potete prendere o posare una bicicletta e una tabella trip che invece riassume i viaggi che sono stati fatti quindi una determinata bicicletta è stata presa da un certo stazione di partenza a una certa ora e è stata consegnata a una stazione di arrivo end station a un'altra ora che sarà definita dalla duration della durata del prestito ah c'è anche end date scusate c'è la data di consegna della bicicletta questo è un database di esempio e proviamo a capire come fare a usarlo questo database allora all'interno di questo repository di cui potete farvi clone c'è un file SQL il file SQL ovviamente conterrà le istruzioni adesso questo qui è un po' grandino le istruzioni per poter creare un database quindi il modo per salvare ripristinare per copiare un database da una macchina a un'altra è quello di salvare l'elenco dei comandi SQL che permettono di ricreare le tabelle e reinserire tutti i dati nella pratica come facciamo nella pratica io su questo computer mi sono prima installato MariaDB e poi ho installato questo programmino ID SQL scusate lo rilancio da zero così si vede meglio cosa stiamo facendo ID SQL che è il software che consigliamo per chi ha Windows mentre per chi ha il Mac stiamo consigliando SQL Pro che ha un comportamento molto simile e questo programma è un'interfaccia grafica per accedere al database perché noi non vogliamo metterci lì a linea di comando in modo molto noioso a inserire uno per uno tutti i comandi SQL e quindi in questo caso io posso definire una connessione posso chiedere a ID SQL di collegarsi all'host locale quindi all'indirizzo qui posso scrivere localhost oppure 127.001 è esattamente un sinonimo di localhost e voglio collegarmi a questo database quindi faccio apri mi chiederà il nome utente la password il nome utente per ora lavoro con l'utente root che a tutti i permessi più avanti se vogliamo possiamo creare altri utenti per non far pasticci e poi la password dell'utente root che io per ora ho indicato uguale al nome utente quindi il password root e questa password ve la chiede MariaDB nel momento in cui l'ho installata per la prima volta nel procedo di installazione di MariaDB mi raccomando mettete una password che vi ricordate perché altrimenti non riuscirete più ad accedere ai vostri dati fatto questo idsql si collega al database attenzione che idsql non è il database il database sta girando in background sul vostro computer è invisibile lui non ha un'interfaccia utente però sta girando noi vediamo attraverso appunto idsql che lui è collegato al server e sta eseguendo dei comandi all'interno qui è un'installazione appena fatta di MariaDB quindi ha questi 4 database che sono database predefiniti da MariaDB all'installazione noi però vogliamo lavorare col database del bug sharing di BAPS di cui abbiamo parlato prima allora come faccio a caricare questo database beh dovrò semplicemente dire a questo idsql per favore fai eseguire tutti questi comandi che stanno nel file sql che vi ho fatto vedere prima allora questo si può fare semplicemente con un comando che si chiama esegui file sql da MariaDB e seleziono qui avevo già la cartella pronta seleziono la cartella nel quale c'è questo file bavs.sql faccio apri e a questo punto idsql sta caricando il file e lo sta passando a MariaDB sottostante MariaDB lo sta eseguendo le istruzioni ci sono tante insert alcune create table e sta ricreando il database vedete che ci sono 46 megabyte di istruzioni e alla fine MariaDB cioè idsql dice che l'operazione è stata terminata ok non vedo nulla questo è l'elenco di database non vedo nulla perché dovrò fare un'operazione di aggiorno quindi quando questo succede spesso quando caricate qualche contenuto dall'esterno l'interfaccia non viene aggiornata automaticamente dobbiamo noi fare aggiorna e a questo punto avendo fatto aggiorno compare un nuovo database che si chiama bavs che è quello che volevamo cliccando sul database compaiono quindi il primo livello è quello di vari database cliccando sul database compaiono le tabelle in questo caso station e trip posso anche espanderle qui selezionando una delle tabelle vedo le informazioni sulla tabella stessa qui noi abbiamo le informazioni quindi guardate l'elenco il server il database la tabella e di questa tabella posso vedere la struttura quindi i campi quali sono che tipo di dati hanno quale chiave primaria eccetera eccetera e poi posso visualizzare i dati presenti quindi nella casella dati vedo le prime righe di questi dati ad esempio mi sta dicendo qua che in station ci sono 71 righe totali mentre in trip ci sono 312.000 righe qui mi sta facendo vedere le prime 1000 così vediamo un esempio dei dati che ci sono all'interno che sono disponibili all'interno di queste tabelle qui si ingrandisco un attimo per riuscire a leggere che cosa sta succedendo queste sono l'elenco delle stazioni quindi queste sono le informazioni che sono in database ovviamente come mi indica questo diagramma c'è una relazione ci sono delle chiavi esterne tra trip e station in particolare nella tabella trip vedete che qua c'è un'indicazione di chiave esterna che dice la stazione di partenza deve essere necessariamente una delle stazioni definite nella tabella station e quindi le chiavi esterne sono definite nell'apposita sezione qui di chiavi esterne in cui dice ad esempio che start terminal l'attributo start terminal o start station ho fatto un esempio su questo start station di questa tabella trip deve corrispondere all'attributo name perdono l'attributo name della tabella station ma su questo diciamo così avremo modo di esercitarci tanto per renderci per orientarsi un po' all'interno di questo programma per ora quello che ci interessa è vedere i dati e cominciare ad accedervi allora questi sono i dati che abbiamo caricato vogliamo diciamo così fare un programma che come prima cosa si colleghi a questi dati allora torniamo in Eclipse creiamo una classe new class e vogliamo leggere le stazioni quindi la chiamiamola leggi bubs quindi un programmino di test nel quale leggiamo i dati da questo database questa classe diciamo che la possiamo eseguire stand alone come public void main string args ho dimenticato di farlo creare l'eclipse non lo devo creare io a mano questa classe avrà un metodo main la possiamo eseguire direttamente senza necessariamente crearci un'interfaccia davanti public void run qui creerò una classe leggi bubs bubs uguale new leggi bubs e ups punto run così mi crea un'istanza di me stesso e le eseguo quindi tutto il programma per ora lo riceverò dentro questo piccolo metodo run ok cosa voglio fare devo definire innanzitutto dice il testo la stringa di connessione allora la stringa di connessione chiamiamola jdbc url viene costruita con la sintassi che abbiamo visto sulle slide quindi jdbc occhio a scrivere db e non bd due punti mysql oppure maria db come volete due punti barra barra il server su cui è ospitato il database quindi localhost barra il database a cui voglio collegarmi qual è il database a cui voglio collegarmi e in questo caso si chiama bubs è questo qua quindi bubs punto interrogativo user uguale il nome dell'utente con cui voglio collegare per ora c'è solo questo root che è l'utente principale e commerciale password uguale la password dell'utente in questo caso avevo sempre messo root perché sapendo doverla scrivere qua non ho scelto una veramente segreta questa è la stringa di connessione che identifica in modo preciso qual è il database a cui vogliamo collegarci e le modalità con cui ci dobbiamo collegare passo 1 fatto passo 2 passo 2 a questo punto possiamo usare la stringa di connessione per aprire una connessione la connessione di fatto immaginiamocela come un collegamento tra il nostro programma e il database il nostro programma sta girando sul mio computer il database sta girando sul mio computer anche se potrebbe essere su altri computer e per ora sono due programmi indipendenti due processi indipendenti noi vogliamo creare un collegamento immaginiamocelo come un tubo all'interno di questo tubo viaggeranno delle informazioni quindi il tubo innanzitutto il collegamento lo dobbiamo creare il collegamento in JDBC prende il nome di connection per creare una nuova connessione si usa la classe driver manager driver manager ha un metodo che si chiama get connection che restituisce un oggetto di tipo connection quindi basta scrivere questa singola istruzione vediamolo io posso inserire driver manager scusate crea un nuovo oggetto di tipo connection con chiedendo al driver manager di darmi una nuova connection usando questa JDBC URL ok allora cosa succede innanzitutto driver manager è una classe della libreria java.sql è una classe la vediamo qua c'è la c che indica classe connection adesso non lo riconosce lo facciamo riconoscere importando il package java.sql è un oggetto della libreria java.sql.connection che però è un'interfaccia quindi questo con è un oggetto che sarà di un certo tipo di un certo tipo di classe che implementa l'interfaccia connection è un po' quando scrivevamo list pippo uguale new array list allora sul lato destro dell'uguale creiamo una classe vera sul lato sinistro ci riferiamo questa classe semplicemente col nome dell'interfaccia quindi usiamo lo stesso metodo perché dobbiamo usare questo metodo perché noi non abbiamo idea di come si chiami la classe reale che implementa la connection perché questa classe reale è una classe che sta dentro e implementata dentro il driver MariaDB e se vogliamo andare a vedere probabilmente qui possiamo andare a svirciare dentro la libreria probabilmente ci sarà da qualche parte una classe che si chiama connection forse l'ho definita direttamente qua no quindi da qualche altra parte una di queste classi che ci sono qua dentro che appunto come dicevo normalmente non so neanche dove sia perché non è pensato per essere una conoscenza che deve conoscere il programmatore sappiamo che la libreria c'è implementa ciò che ci serve punto è tutto ciò che ci serve quindi da qualche parte qua dentro la MariaDB ci sarà una classe che non so come si chiama ma la cosa importante che so è che implementerà l'interfaccia connection tra l'altro se io non avessi la MariaDB avessi quella di MySQL ovviamente la classe che salta fuori è completamente diversa allora driver manager che cosa fa driver manager analizza questa stringa va a vedere quali sono le classi che implementano il JDBC driver eventualmente installate nelle mie dipendenze di progetto in questo caso ne ho una sola ma potrei avere accesso a più database contemporaneamente e chiede a tutte queste classi sentite qualcuno di voi è in grado di rispondere a MySQL è in grado di dichiara di essere in grado di fornire funzionare come un driver per l'accesso a MySQL e la prima che risponde diciamo così vince e prende il controllo della connessione e quindi apre la connessione a questo punto passerà a questa classe che ha trovato che noi sappiamo essere da qualche parte sepolta dentro MariaDB passerà questi parametri e quindi quella classe specifica aprirà la connessione e mi restituirà un oggetto di quella classe che implementa l'interfaccia connessione l'unica cosa che mi serve sapere è creare e che questo oggetto implementa l'interfaccia connessione quindi so come lo posso usare questo è un pattern di programmazione nuovo si chiama pattern di programmazione di tipo factory cioè una fabbrica se notate noi sul lato destro di questo uguale abbiamo creato una classe nuova senza sapere come si chiama questa classe cioè ho fatto crea la creazione di una classe di un oggetto di una classe senza sapere il tipo della classe e quindi come faccio e quindi non posso usare new non potevo usare new perché se uso new devo per forza dire qual è la classe di cui voglio creare un oggetto allora cosa faccio uso un metodo uso un metodo un metodo fornito da un'altra classe classe che internamente farà la new farà new e conoscerà conoscerà il tipo di classe effettivo ok quindi io devo creare un oggetto di una classe che non conosco non posso direttamente farlo io chiederò a un'altra classe in questo caso il driver manager scusate ho cliccato dove non dovevo il driver manager senti per favore creami un oggetto connection tu sai come e restituiscimi questo oggetto vedremo che questo pattern è molto utilizzato proprio perché lavorando in JDBC funziona tutto così noi non creiamo mai nessun oggetto ma chiediamo sempre un oggetto di fornirne un altro quindi ogni oggetto molto spesso funziona come factory per altri oggetti il punto di partenza è la factory driver manager che crea connessioni che fabbrica connessioni ovviamente con l'ausilio sottostante della classe driver del database specifico ma noi tutto questo meccanismo non lo vediamo ok perché c'è ancora un errore qui perché c'è ancora un errore eclips ma perché il metodo get connection restituisce una eccezione tipo SQL exception in tutte le operazioni di input output ogni volta che dobbiamo leggere e scrivere qualcosa a maggior ragione collegarci con un altro server c'è sempre qualcosa che può andare storto l'indirizzo è sbagliato il server non sta girando il database non si chiama così la password è sbagliata la connessione di rete non funziona milioni di ragioni quindi tutte le volte che scriviamo codici che di fatto implicano un accesso al database o un accesso a un'altra risorsa dobbiamo sempre aspettarci di dover gestire delle eccezioni e quindi noi inseriamo tutto questo dentro un blocco try catch che perlomeno mi gestisca l'eccezione e poi qua vediamo che cosa dovremmo fare in questo caso però l'eccezione viene semplicemente stampata ma poi in qualche modo dovremmo gestirla dovremmo vederla o interrompere il programma se si vede che ha qualche problema quindi qui siamo al passo 2 ho definito la stringa di connessione passo 2 ho aperto la connessione stessa dopo il passo 2 viene il passo 6 poi torniamo sulla slide che abbiamo saltato cioè dopo il passo 2 mi concentro immediatamente sul passo 6 il passo 6 è l'ultima l'ultima cosa da fare chiudere la connessione però per buona abitudine ricordiamoci nel momento in cui apriamo una connessione subito chiudiamola quindi tutto il resto del code ce lo scriveremo qua in mezzo in cui useremo la connessione per fare interrogazioni però ricordiamoci di scrivere connection.close subito perché altrimenti vi assicuro che ce lo dimentichiamo e se ci dimentichiamo connection.close cosa capita che ogni volta che passiamo da qua passiamo da questo metodo apriamo una connessione nuova e un'altra nuova e un'altra nuova ancora e a un certo punto il database mi dirà basta hai raggiunto il numero massimo di connessioni possibili le connessioni sono una risorsa finita del server database quindi non è possibile crearne un numero esagerato quindi ricordiamocelo quando creo una connessione subito scrivo l'istruzione per per fare close per chiuderla per riutilizzarla in modo che sia non stia sprecando queste risorse se se non lo scriviamo subito vi assicuro che ce lo dimentichiamo quindi per questo ho inserito il passo 6 immediatamente dopo il passo 2 allora che punto siamo siamo arrivati qua in cui noi abbiamo application al nostro programma il nostro programma ha chiesto al driver manager ha chiamato il metodo get connection su driver manager driver manager è una classe statica da DVD a JDBC che quindi ne posso chiamare in metodi senza necessariamente istanziare degli oggetti non ho fatto new driver manager ho direttamente chiamato un metodo statico il driver manager con la sua magia è riuscito a trovare e caricare il driver JDBC ho chiesto il driver manager ha chiesto al driver JDBC che è questa classe di MariaDB sottostante per favore creami una connection e questa connection è stata restituita all'application quindi l'oggetto connection il driver l'ha passato al driver manager e il driver manager l'ha passato al mio programma quindi siamo a questi tre passi ovviamente questa connessione sconosce il database le informazioni di accesso al database perfetto passo due passo tre a questo punto vogliamo eseguire un'istruzione un'interrogazione immaginiamo vogliamo voler conoscere ad esempio qual è nel nostro database andiamo a prendere la tabella station quali sono le stazioni quindi ci sono 71 stazioni vogliamo sapere i nomi di queste stazioni di bike sharing in cui posso prendere o posare le biciclette quindi per farlo crea un oggetto SQL che si chiama statement l'oggetto statement come dice il nome contiene un'istruzione SQL contiene un comando SQL una SQL statement appunto per ora vi racconto come funziona con la classe che si chiama statement vi annuncio già che subito dopo vi dirò che la classe statement non si userà mai non la vogliamo mai usare e useremo sempre una classe che si chiama prepared statement però ho bisogno di un po' di tempo per raccontarvi il perché e quindi per ora iniziamo nel modo semplice come primo esempio usiamo questa poi più avanti passeremo a quest'altra ma che funziona ovviamente in un modo molto simile quindi non sarà una particolare difficoltà allora creare un oggetto statement lo posso creare direttamente qua statement st per abitudine lo chiamo st come posso fare a crearlo di nuovo statement che cosa sarà sarà un'interfaccia definita in java.sql attenzione a non prendere quelle altre classiche che non devono essere i package che non sono quelli giusti java.sql statement ovviamente non posso questo è di nuovo un'interfaccia e qui non posso creare una classe di tipo statement devo chiedere a qualcuno di fabbricarmi uno statement lo statement lo possiamo immaginare io cerco di immaginarmelo come una se prima abbiamo detto che la connessione è un tubo che collega il mio programma al database io lo statement me lo immagino come una navetta una capsula che viaggia avanti indietro su questo tubo e quindi ogni statement conterrà la sua istruzione SQL dal mio programma la mando al server sul server lavora poi torna indietro sempre lungo il stesso tubo ma dentro questa navetta un piccolo shuttle che contiene la mia istruzione e chi è che mi può dare uno shuttle una navetta uno statement che gira all'interno di una connessione la connessione stessa quindi sarà la connessione alla quale chiedo per favore creami una nuova navetta un nuovo statement e questo statement può essere eseguito quindi passo 3 è creo un nuovo oggetto di tipo statement e una volta che ho creato questo oggetto posso eseguire chiedere all'oggetto statement di eseguire una query ovviamente la query dovrò specificarla io e quindi come parametro di execute query ci sarà appunto l'interrogazione da compiere quindi se io nel mio caso volevo vedere l'elenco dei nomi delle stazioni mi scrivo un'interrogazione che faccia questo mi conviene allora questa interrogazione altro non è che una stringa all'interno del programma java quindi io qua dirò string sql uguale aperte virgolette select eccetera eccetera il problema pratico è che attenzione che se io scrivo questa stringa e dimentico già come stavo facendo avevo dimenticato questa e avrò poi un errore di sintassi allora conviene sempre le interrogazioni provarle prima per questo abbiamo id seql che è collegato al database ha una linguetta che si chiama query nella quale io posso scrivere le interrogazioni non me le scrive lui me le devo scrivere io ma perlomeno posso provarle e quindi io potrei scrivere select ad esempio il nome quindi c'è una colonna che si chiama name la posso prendere da qui quindi ho anche degli ausili per il completamento from from non form from e il nome della tabella si chiama station e quindi se faccio run dov'è qui esegui la sql mi esegue questa interrogazione e mi dà tutte le stazioni che sono state definite all'interno della tabella station ok ok quindi questa è l'interrogazione semplicissima che voglio eseguire la prendo copia torno in eclipse e lo incollo dentro la stringa quindi sto incollando un'interrogazione che sono sicuro che sia giusta perlomeno dal punto di vista sintattico passo successivo quindi eseguo questa istruzione quindi chiedo lo statement lo statement ricordiamocelo ce lo siamo visualizzati come una navetta una capsula a questo punto dentro la capsula metto l'istruzione sql e gli dico vai ad eseguirti vai dal database execute execute query execute query vai dal database e chiedo al database di eseguire esattamente questa istruzione quindi metto da execute query riceve come parametro una string sql che contiene uno statement di tipo select e fa sì che questa stringa venga mandata al server il server lo eseguirà e il server restituirà un oggetto sempre un oggetto jdbc che si chiama result set un oggetto di tipo che implementa l'interfaccia result set di nuovo qua vado a importare result set che di nuovo manco per scommetterci è un interface quindi di nuovo sarà un oggetto che implementa l'interfaccia non so qual è quell'oggetto vedete che sto creando un oggetto dopo l'altro ho creato con ho creato statement ho creato la result set non ho mai scritto new ho sempre usato la metoda di factory la connessione il driver manager mi crea la connessione la connessione mi crea lo statement e lo statement mi crea il risultato si usa sempre questo pattern di tipo factory e a questo punto ho il risultato quindi abbiamo il metodo execute query che partire da un'istruzione sql di tipo select restituisce un risultato allora andiamo a rivedere il nostro diagramma per cui siamo abbiamo diciamo così siamo passati ad altre classi nuove noi abbiamo dal nostro programma chiesto la connessione dammi uno statement la connessione avrà creato un oggetto statement che diciamo così mi ha restituito e io a questo oggetto statement gli avrò passato una query questo oggetto statement parlerà con il database da qualche parte sono fatti suoi e alla fine mi restituirà un oggetto result set l'oggetto result set è l'oggetto che contiene il risultato della query o meglio come vedremo tra un secondo contiene il modo per poter accedere al risultato vi accendo solo prima di entrare sul result set vi accendo solo al fatto che execute query funziona se la mia istruzione è di tipo select cioè ritorna effettivamente dei risultati che vengono incapsulati in un oggetto di tipo result set se la mia comando SQL invece fosse insert update o delete bisogna usare execute update perché sono query che vanno a modificare il database non semplicemente ad interrogarlo e quindi in questo caso devo usare execute update che è una query di aggiornamento non restituisce un result set ma restituisce semplicemente un numero intero che mi dice quante righe ha modificato se la nostra query non ricade né nella select che deve essere chiamata con execute query né nelle insert update o delete che vengono invece richiamate con execute update si usa un metodo execute che vale per qualunque tipo di stringa e restituisce semplicemente vero falso che mi dice se la query è stata eseguita con successo oppure no ma noi nel 90% dei casi avremo query di tipo select e quindi useremo execute query come metodo di statement per poterlo eseguire questo la prima query che abbiamo fatto è molto semplice perché mi chiedevo dammi tutte le stazioni e cosa succederebbe invece se io chiedessi dammi le stazioni torniamo in SQL nei dati della tabella station dammi le stazioni che stanno a palo alto quindi non tutte e tutte ma solamente quelle cui landmark che è la città che le contiene sia a palo alto allora dovrei scrivere ovviamente where landmark uguale apici ricordiamo che in SQL gli apici sono singoli e faccio run quindi questa sarà la mia query ma ovviamente questo palo alto non è fisso palo alto ma sarà un valore che arriva dall'utente e in un programma complessivo completo ci sarà un campo di testo una tendina a discesa che attraverso la quale l'utente può scegliere qual è la città che gli interessa quindi vuol dire che questa query che io devo eseguire contiene una parte fissa più un dato proveniente dall'utente quindi quello che mi verrebbe voglia di fare sarebbe una cosa di questo genere faccio una query che contiene una parte fissa e poi ad un certo punto ci inserisco all'interno concateno al suo interno una variabile che rappresenta in questo caso la città in questo caso in questo caso un altro esempio un codice utente un dato che proviene dall'utente stesso quindi già è brutto vedere del codice SQL mescolato all'interno di un programma Java qui è ancora più brutto perché questo codice SQL non riesco a vederlo completamente perché lo sto costruendo pezzettini incastrando il Lego costruendo quindi una stringa SQL dove questa cosa qua significa che mi mancava l'apice di chiusura quindi devo creare concatenare una piccola stringa che contiene solo l'apice è estremamente poco leggibile non solo è poco leggibile è molto pericoloso perché a questo punto stiamo mandando a un database privato diciamo come abbiamo accesso solo noi una query che contiene al suo interno un testo che nella maggior parte dei casi proviene direttamente dall'interfaccia utente quindi l'utente può aver scritto allora questo si può fare ovviamente ma a noi dà abbastanza ribrezzo lavorare in questo modo come racconta il ragazzino che è riportato qua in questa figura e quindi questo sarà il motivo per cui andremo sempre useremo sempre i prepare statement che non hanno questo problema quindi concatenare stringhe per ottenere una query è una prassi che io mi sento di sconsigliare sempre tecnicamente è possibile però cerchiamo di evitarla praticamente sempre quindi useremo sempre il metodo 2 che impareremo chiaramente a valle ok però noi siamo rimasti al fatto che la nostra query ci ha restituito un oggetto tipo result set che teoricamente contiene il risultato dell'interrogazione ma non sappiamo che cosa farcene e allora cerchiamo di capire come funziona il result set prima vi ho detto che il result set non contiene il risultato della query ma contiene il modo per poterlo ottenere perché uno si complica la vita così ma perché immaginate di fare un'interrogazione in un database che contiene un milione di righe allora non è efficiente che quando io faccio questa query torni indietro un risultato che contiene un milione di righe quindi si trasmette un milione di dati dal server al client quando poi magari il client l'applicazione non ne ha bisogno di tutte ha bisogno solamente di alcuni allora il result set cioè l'interfaccia del dbc prevede che il result set contenga le informazioni per poter scaricare poco per volta i dati che compongono la query quindi io ho fatto la query il risultato della query il database l'ha calcolato il dbc l'ha se lo tiene in pancia tanto il database è bravo a fare queste cose perché è il suo mestiere e mi dà un riferimento quindi quando torna indietro nella navetta la capsula statement all'applicazione al mio programma quindi restituirà un oggetto di tipo result set il result set non contiene tutta la tabella ma contiene le informazioni per poter andare a leggere questa tabella con un meccanismo molto semplice un meccanismo a cursore cioè un cursore e di fatto è un puntatore che indica una certa riga i dati li posso leggere una riga per volta quindi magari quella query mi dava un milione di righe io posso leggere la prima riga poi passo la seconda a leggere la seconda poi passo la terza a leggere la terza e così via ho un cursore che si può muovere avanti e indietro e quindi scegliere quale riga e quando il cursore è su una determinata riga può leggere i valori che sono scritti su quella riga con dei metodi get getint getstring getdate getboolean eccetera che mi estraggono il valore di quella specifica colonna a seconda ovviamente che sia un intero una string un booleano eccetera eccetera quindi concettualmente nel momento in cui io faccio una query il cursore si posiziona in una riga non esistente in una riga fittizia in realtà la posizione di partenza del cursore è la riga prima della riga scusate la riga precedente alla prima riga prima della prima riga la prima della prima riga cosa c'è? non c'è niente e quindi all'inizio appena result set restituisce ritorna il cursore è su una riga non esistente poi ho un metodo next che mi permette di scendere di una riga quindi sono prima della prima riga chiamo next e mi troverò col cursore che punta sulla prima riga a questo punto potrò fare un getint leggere il primo numero getstring leggere il secondo numero e getdouble che leggere il terzo numero di quella riga non avrò la possibilità di vedere la seconda e la terza riga e così via ma se chiamo next di nuovo il cursore si sposterà sulla seconda riga quindi potrò con gli stessi metodi getint getstring getdouble estrarre questi valori e così via fino a quando next 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 vado avanti il cursore arriverà alla fine della tabella e quindi si troverà a un certo punto nella riga dopo l'ultima quindi questo cursore può posizionarsi su tutte le righe della tabella tutte le righe della tabella più la riga sopra la prima che non esiste più la riga sotto l'ultima che non esiste sono posizioni strane estreme lecite per questo cursore adesso cerchiamo anche di capire perché quando sono su una riga dicevamo posso estrarre i valori delle varie colonne di quella stessa riga quindi userò dei vari metodi get che sono identificati dal tipo di dato che voglio ottenere e questo metodo get può ricevere un parametro o di tipo intero che indica il numero di colonna quindi get string di 1 get string di 2 get string di 3 mi darà il contenuto della prima o seconda o terza colonna della riga su cui si trova attualmente il cursore oppure molto meglio sempre da preferirsi non il numero di colonna ma il nome della colonna perché se poi dovessimo modificare un pochino la qui raggiungiamo togliamo una colonna e le riordiniamo il numero salta la numerazione salta e dovrei andare a correggere mentre se io invece metto il nome sono sicuro di richiamare esattamente la colonna che mi interessa il nome della colonna è quello che compare qui name era il nome che abbiamo indicato nella query oppure lo possiamo rinominare con l'operatore es potrei chiamarlo stazione ad esempio e allora in questo caso il nome della colonna sarebbe stazione quindi scelgo io qual è il nome la query che definisce quali sono i nomi delle colonne che compongono il risultato quindi io devo intersecare due operazioni una di navigazione del result set partire dalla prima riga andare avanti e l'altra di estrazione dei dati di ogni singola riga come lo possiamo fare? ovviamente facendo avanzare il cursore quindi il metodo principale di navigazione del cursore è proprio il metodo next il metodo next mi porta il cursore sempre alla riga successiva il metodo next restituisce un valore booleano che mi dice se dopo che si è spostato la riga su cui si è posizionato esiste oppure no quindi parte prima della prima riga chiamo next arrivo sulla 1 chiamo next arrivo sulla 2 chiamo next arrivo sulla 3 e a quel punto mi restituisce sempre true 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 chiamo next una quarta volta è finita la tabella quindi lui si posizionerà come cursore dopo l'ultima riga e restituirà il valore falso questo mi permette di scrivere di iterare i suoi risultati con un pattern molto molto semplice basta scrivere while result set punto next uguale true ma uguale true sappiamo che adesso lo cancelleremo subito vuol dire è inutile verificare se un booleano è true è già essenzioso true e quindi la versione il valore di verità di rs punto next mi dà già il true che mi serve per iterare il ciclo while quindi se rs punto next è vero vuol dire che il cursore è posizionato su una riga che esiste e quindi in questo caso posso estrarre il nome della stazione prendendo dars al set attuale sotto forma di stringa la colonna che si chiama name e poi ci faccio ci faccio ci faccio ciò che voglio lo salvo in un'array list la stampo in questo caso per semplicità stampiamola direttamente quindi in questo caso cosa succede il cursore inizialmente è prima della prima riga quando entro questo while viene chiamato per la prima volta result punto next e quindi ricordiamoci che il while valuta la condizione prima di entrare nel ciclo quindi prima chiamo next e quindi il cursore si sposta sulla riga 1 restituirà true e quindi entro nel while estrargo il nome della prima riga lo stampo e all'interazione successiva richiamo di nuovo il metodo next che passerà sulla riga 2 e così via quindi il fatto che il cursore parta non sulla prima riga ma sulla riga precedente sulla riga fittizia precedente ci aiuta perché in questo caso con questo diciamo così codice while run punto next la prima volta che chiama next la usa proprio per posizionarsi sulla prima riga altrimenti avremmo dovuto trattare la prima riga in modo diverso dalle altre e quindi se eseguo questo proviamo devo andare su questo leggi bufs facciamo run è già passato troppo tempo senza fare run non la posso eseguire qua perché non può essere eseguita da perché mi dici questo cosa ho dimenticato ah ho dimenticato static sempre gentili i messaggi della roba di java per farti capire cosa che non va adesso mi lo permette di eseguire come java application e mi stamperà nella console per fortuna esattamente i nomi delle stazioni che abbiamo indicato quindi ha iterato sui risultati di questa query la differenza è che in myc e in myadb l'abbiamo visto in idxql l'abbiamo visto scrivendo la query a mano in questo caso la query l'abbiamo fatta eseguire dal nostro programma java un altro dettaglio sul posizione strana del cursore è che questo ciclo while funziona anche se la query non restituisce nessun risultato in questo caso il metodo next passa dalla riga prima della prima alla riga dopo l'ultima perché non c'è neppure una prima riga quindi salta direttamente dalla riga prima della prima alla riga dopo l'ultima restituisce falso e quindi questo ciclo while non viene eseguito nemmeno una volta quindi questa stranezza della posizione prima della prima dopo l'ultima riga anziché partire dalla prima e fermarsi all'ultima in realtà semplifica di molto la programmazione perché ci permette appunto di scrivere un codice molto compatto che automaticamente considera sia il caso di zero righe di una riga o di più righe di risultato semplicemente diciamo così hanno definito in modo oculato il significato di questo metodo next e noi possiamo ringraziare che l'abbiano progettato così almeno ci semplifica la vita ovviamente il cursore non può solo spostarsi avanti di una posizione non può solo andare avanti di una posizione con il next ha una serie di metodi che ci permettono di chiedere caro cursore sei sulla prima riga sei sull'ultima riga sei sulla riga prima della prima o dopo l'ultima oppure di spostarli vai all'inizio vai alla fine vai sulla riga 1 vai sulla riga ultima vedete la differenza before first si può sempre fare posso sempre spostarmi prima della prima riga tanto è una posizione fittizia e quindi è un valore di ritorno void non può capitare nulla first significa vai posizionati sulla prima riga a un valore di ritorno boolean vero o falso perché può darsi che questa riga la riga 1 esista o no perché se la qui non dà nessun risultato non è un errore il fatto che un'interrogazione ritorni l'insieme vuoto però chiaramente a quel punto la prima riga non esiste e quindi posso spostarmi in una determinata riga se esiste tornare a quella precedente spostarmi in avanti e indietro di tot righe spostare o il controllo completo del cursore di navigazione ma nel 90% dei casi forse anche di più quello che mi serve è scandire risultati dal primo all'ultimo usando il next e andando in ordine crescente ok questi l'estrazione dei dati noi l'abbiamo fatta in modo semplice nel senso che c'era un dato avevamo una colonna sola di tipo stringa quindi l'abbiamo memorizzata in una stringa java in realtà esiste il driver jdbc si occupa di fare la conversione tra i tipi di dato del database quindi char var, char float date, time eccetera che sono i tipi di dato sql mappandoli sui tipi di dato java ovviamente sono due tipi di dati diversi questo è un lavoro che fa direttamente il driver jdbc e la cosa curiosa è che qualunque dato fosse anche un numero reale o un numero intero se vogliamo lo possiamo convertire a stringa oppure lo possiamo convertire a intero una stringa ovviamente un dato di tipo testuale lo potremmo solamente convertire in stringa un dato di tipo temporale lo potremmo convertire in stringa oppure in data quindi a seconda dei tipi di dati di partenza è possibile convertirli con metodo get get string get short get int eccetera convertirli nell'opportuno tipo java c'è una certa non c'è una compatibilità al 100% diciamo tra i tipi di dato mysql e quelli java c'è una certa tabella di conversione questo è un pochino più dettagliata sui tipi di data sql standard quelli che sono i tipi di data i metodi di estrazione java e quelli che sono con queste x le combinazioni permesse e con la x più in grassetto le combinazioni preferite quelle che non comportano la perdita di informazioni o la comportano solamente in modo minimo ok poi siamo arrivati al punto 6 ma che già conoscevamo la chiusura della connessione perché noi l'avevamo già messa a questo punto possiamo solo dire una cosa la stessa connessione adesso qui abbiamo finito alla fine di questo ciclo while di usare i risultati di questa query di questo statement quindi a questo punto io posso decidere di chiudere la connessione oppure volendo potrei benissimo fare un altro query nel tubo rimane aperto e crea un nuovo statement quindi connessione punto create statement un altro statement 2 e posso fare un'altra interrogazione quindi quando ho completato un'interrogazione ne posso benissimo fare un'altra sulla stessa connessione non ho bisogno di aprire una connessione nuova per ogni statement quindi è perfettamente lecito avere una connessione sulla quale viaggiano più statement diversi in questo caso però sarebbe opportuno ricordarmi di dire al database guarda questo statement iniziale non mi serve più quindi di sicuro devo chiudere la connessione ma se all'interno di quella connessione farò viaggiare più statement è buona norma uno statement nel momento in cui l'ho creato e non mi serve più perché ho estratto tutta l'informazione chiuderlo perché? perché il server fino a quando lo statement non viene chiuso mantiene in memoria il risultato della query la tabella di cui il cursore sta esplorando le varie righe allora se io voglio fare un favore verso il database dico guarda questa tabella qua ho già fatto ho già estratto ciò che mi serviva ho già fatto ciò che mi serviva a fare quindi dimenticalo pure libera queste risorse perché io tra un attimo te ne chiederò delle altre per un altro statement nel caso in cui eseguiamo uno statement solo questo non è del tutto necessario perché ovviamente la chiusura della connessione implica automaticamente la chiusura e la il recupero dello spazio è occupato da tutti gli statement che erano presenti però è buona norma come dicevo quando creo uno statement ricordarmi di chiuderlo quando non mi serve più quando creo una connessione ancora più importante chiuderla quando non la utilizzo più in questo modo il database server sarà contento non verrà stressato troppo dalle mie richieste e non rifiuterà nuove richieste successive o nuovi statement successivi perché appunto se apro 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 non chiudo male a un certo punto lui raggiunge il limite e mi darà un errore quando cercherò di aprire una nuova connessione quindi questo è se vogliamo il minimo che ci serve il programma minimo che ci serve per poter lavorare con il database i passi sono sempre questi cosa cambia alla fine cambia l'interrogazione che devo fare ovviamente cambiano quali sono i dati che devo estrarre e cambierò ovviamente l'azione l'operazione che devo fare con questi dati questo ovviamente è fortemente dipendente dal programma tutto il resto è uguale è sempre uguale allora nei passaggi successivi partiremo da questo scheletro minimale che come vediamo è sufficientemente semplice da essere contenuto in un'unica schermata e cercheremo di farlo evolvere da un lato per renderlo più efficiente dal lato quindi più avanti proprio sul lavorare sulle connessioni multiple dall'altro renderlo più sicuro proprio evitando quell'operazione di composizione della stringa che può essere anche pericolosa e dall'altro ancora soprattutto dal punto di vista dell'integrazione all'interno del progetto cioè di capire bene questi metodi dove vanno a finire perché qui stiamo mescolando informazioni di vario tipo stiamo mescolando informazioni di bassissimo livello su dove si trova il database e qual è la sua password con informazioni di logica di accesso ai dati quindi la query con informazioni di interfaccia utente perché sto stampando qualcosa e noi abbiamo già capito che queste cose questi livelli diversi nella stessa classe non stanno bene e quindi cercheremo di separare anche noi riorganizzare il codice così come abbiamo fatto sulla parte front end con la MVC cercheremo di farlo sulla parte back end dandoci un pattern di programmazione per ora però abbiamo già le basi per poter fare piccole interrogazioni nel database in questo caso con una colonna potrebbe anche essere più di una basta chiaramente modificare la query e poter estrarre le colonne che ci servono i passi successivi ovviamente li vedremo nel prossimo video grazie a tutti ieri a tutti ieri che si sono